Occhio alle onde d'urto! È una grossa arma! Stiamo a ripara e dovremo cavarcela! Sì! 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 Attenzione! Questo dovrebbe darci un po' di tempo. Finché il blocco di manutenzione reggerà, saremo al sicuro. Andiamo. Allora, sta tornando online. Presto, andiamocene da qui. C'è mancato poco! Occhio agli scudi, state al riparo! C'è mancato poco! C'è mancato poco! C'è mancato poco! Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.